Chiediamo un tango a tutti i nostri artisti insieme, direi, giusto? E allora, forza, 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 forza! Ricamiamo in pista! Sergio Chiaverini Francesca Brandi! Al tetto colpo, Lucia Colte! Ricchia Padoffi, Giordano Aguero! 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 anche a poco di cerco zona e un'immense grazie prima di tornare alla splendida musica di Super Sabino ricordiamo che la serata di domani avremo in console il punto in branca e avremo le esibizioni dei padroni di casa quindi di Marco Paladino e Lari Campinati Ioni Percocchi e Marisa Manante che sono qui con noi Esteban Romena e Claudia Coglia quindi non perdetevi la serata di domani sera Grazie